Ti stai chiedendo dalla camera, Maurizio, non ci metterai un tapone. E io devo capo, io ti ho attaccato al Presidente. Io ti ho attaccato al Presidente, che faccio inesisto. No, lo parliamo. Minno, che ha un problema, no? Ha un problema, papà. No, non ha un problema. E per ora, non ha un problema. Non ha un problema. Oh, il taccoglie, ho Presidente. Non, non ha un problema. Non ha un problema. Ha un problema.